we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi wow che pace che c'è stata ieri la 13.20 ha portato un bel po di cose che arriveranno nel battle royale molte ve le ho fatte vedere nel video della patch notes proprio di ieri mattina ma quelle più diciamo nascoste ve le faccio vedere oggi parleremo di tutto di aquaman dei veicoli dell'ltm delle summer splash insomma di tutto ma prima volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e anche al secondo e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora dentro a cannone andiamo a parlare del primo argomento di oggi che è proprio la fortnite summer splash in poche parole l'evento lunghissimo che durerà più giorni e che caratterizzerà l'estate in fortnite chi ha giocato anche l'estate scorsa ricorderà sicuramente i 14 giorni di fortnite quindi le due settimane dove il team va in vacanza che erano caratterizzate da sfide giornaliere con regali giornaliere oggi giornalieri oggi arrivano proprio invece delle notizie sulla pagina ufficiale di epic che dice ora che l'inutazione ha trasformato l'intera isola in una località rivierasca non resta che prendere il costume un succo succoso bello ghiacciato e tuffarsi in summer splash da oggi fino al termine della season 3 divertiti con una rotazione di matt classiche accompagnate da qualche novità inoltre diversi costumi nuovi e classici arriveranno al negozio oggetti belli pronti per una vacanza sull'isola durante la summer splash potrai divertirti con una rotazione come nebbia di guerra già nota come silenziatori infidi incontri ravvicinati fuori magazzino prendi e altre matt più classiche riceverai una rinfrescata in stile summer splash con delle nuove funzionalità ovviamente ragazzi arriveranno anche delle skin oltre a quelle che abbiamo spoilerato direttamente nel video di ieri inoltre summer splash offre nuovi costumi e altri elementi per il negozio oggetti ispirati all'estate sabbia mare sport e ovviamente buon cibo domina il green nei panni dell'esperto golfista pattugliatore del par rivela lo squalo che c'è in tè con fauci tenerone e fauci comodone risplendi come una costellazione grazie a eruzione astrale tra l'altro torneranno anche alla deriva estiva e la bombarola da spiaggia quindi due skin molto apprezzate che non sono uscite mai solamente nell'evento dell'anno scorso quindi tanta roba anche per questo summer splash che è già praticamente iniziato e andiamo avanti a parlare di un altro grande argomento ovvero sia i veicoli ragazzi diffidate da tutti i video che vi dicono ci sono i veicoli posso guidare i veicoli entriamo nei veicoli vi faccio vedere il gameplay dei veicoli sono ok mi sono automutato così non non mi arriva il problema della monetizzazione questa è l'unica cosa ufficiale disponibile in game quattro poster che potete trovare sparsi per la mappa la prima il primo poster ci mostra il beer quindi questo pick up il secondo ci mostra il mufflap un tir una motrice veramente meraviglioso il terzo la prevalente una specie di berlina classica e per chiudere la whiplash la macchina da corsa qualche informazione sui veicoli però la sappiamo da adesso aprendo la minimappa vedrete dei loghi con il distributore di benzina è ovvio che quelli serviranno per rifillare appunto le i serbatoi dei veicoli visto che vanno avanti solo se li riempite di benzina i veicoli che sponeranno non si sa ancora le location sponeranno con un tot di percentuale nel serbatoio che può andare dal 40 per cento fino al 100 per cento e vi ricordo che ogni percentuale dovrebbe essere un secondo di utilizzo del veicolo stesso quindi ragazzi anche qua credo che dovremo aspettare il 22 luglio io dico che per la patch 13.30 barra 13.40 avremo la possibilità di guidare finalmente dei veicoli normali su fortnite e andiamo avanti perché questo è un altro argomento super interessante nei file di gioco è stata trovata questa texture che è un chiarissimo riferimento a capitan america lo scudo è ovviamente impossibile non riconoscerlo la stella centrale con le strisce bianche e rosse appunto vanno a richiamare la bandiera americana non abbiamo purtroppo ancora la skin nella forma completa ma abbiamo delle immagini della skin criptata e come vedete ragazzi questo sarà il bundle di capitan america e tra l'altro notiamo in alto che c'è quel cerchio lì che sarà lo scudo ci sarà un backpack che è questo qua più sotto la skin che è quella lì centrale vista così sembra una skin normale e quella cosa la destra potrebbe essere boh non si sa assolutamente la particolarità però di questa skin ragazzi è proprio nel suo backpack perché lo scudo di capitan america potrà essere utilizzato per farmare i materiali ovviamente ma anche come backpack quindi quando noi prenderemo in mano un'arma lui metterà lo scudo dietro quindi una bellissima animazione unica tra l'altro oddio hanno fatto qualcosa di simile con il brutus lo scorso la scorsa season quando tu usi il doppio piccone di brutus se non lo stai usando lui lo ripone ma solo se hai il suo backpack mentre qua invece sarà appunto una cosa davvero molto molto carina e andiamo avanti perché c'è stato un nerf per quanto riguarda alcune armi o meglio questo è un potenziamento viene potenziato l'aug come vedete ragazzi il danno alla testa è stato aumentato da 56 a 58 il danno al corpo da 37 a 39 così come il danno alle strutture da 37 a 39 è stato invece diminuito il tempo di caricamento da 2.34 secondi a 2,21 secondi mentre invece la ricarica per no recoil non chiedetemi cosa sia il recoil che non me lo ricordo è da 1.57 a 1.48 quindi ragazzi un power up per quanto riguarda l'aug e invece ci sono state delle modifiche per quando riguarda per quando riguarda la mitraglietta quella a corto raggio è stato diminuito il danno alle strutture da 17 a 16 e il tempo di ricarica è stato diminuito da 1.35 secondi a 1.32 modifiche ancora per il recoil porco giù non mi ricordo mai che cos'è il recoil da 1.8 a 1.76 e per terminare modifiche anche i tempi di ricarica per il fucile a ricarica se andiamo a vedere i vecchi tempi partendo dalla dalla comune alla mitica 5 secondi e mezzo 5.25 5 secondi 4.75 4.5 4.25 vengono modificati in 4.8 4.6 4.4 4.18 3.96 3.74 un pump a ricarica nella versione mitica si ricarica in 3.74 secondi wow 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 e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa è un'altra skin recuperata nei file di gioco pensavamo che non arrivasse e invece è arrivata ed è ragazzi la skin molto probabilmente relativa a black manta chi è black manta che cosa fa black manta è l'antagonista di aquaman come vediamo ad esempio in un'immagine molto più esplicativa sappiamo che sono io mi hanno copiato mi hanno copiato io non gli ho dato il permesso mi hanno copiato gli addominali sui miei come si dice arriverà anche una storyline dedicata ad aquaman probabilmente non appena riceveremo la skin quindi intorno alla quinta settimana sarà secondo me anche disponibile la skin black manta e li scopriremo bene anche perché c'è tutta la nuova location aquaman è un discorso che dovremmo fare con calma perché è molto molto lungo e prima di salutarvi volevo farvi vedere ancora un paio di robe veloci la numero uno è questa ragazzi il firefly jar quindi il barattole di lucciole è stato modificato adesso possiamo portare uno stack di sei barattoli e non più di tre quindi tanta roba impariamo ad usarlo perché è veramente micidiale questo nuovo item e per terminare invece non posso dirlo ad alta voce però è assolutamente quello è assolutamente quello ragazzi c'è la probabilità di trovare questo fungo dorato con una percentuale dello 0,0001 per cento ma se lo trovaste vi darà immediatamente 100 di shield e poter potrete tenerne un massimo di tre l'unica cosa che non è possibile è che non verrà mai spawnato nei food boxes quindi nelle scatole quelle del cibo non sarà mai possibile trovarlo insomma ragazzi una tonnellata di news anche oggi per la nuova patch fortnite c'è siamo sul pezzo tanta roba sta per arrivare tanta roba è arrivata io vi ringrazio per aver guardato questo video news mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao 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 ciao